Sto imparando ad accettarlo, sto imparando ad accettare che è morta, ma non ci riesco, io ho bisogno di andare avanti e quindi lui è il prossimo passo, voglio capire perché, voglio capire perché lei, voglio che lui sappia quello che ha fatto, voglio che lui sappia come mi sento, voglio capire, se riuscissi a capire potrei sentirmi, potrebbe essere meglio o anche solo diverso, potrei riuscire ad andare avanti, mi hanno detto che lei mi può aiutare, mi dia il suo benestare, acceleri la procedura, è arrivato il momento, voglio un incontro.